proveniente da una nota famiglia di attori, tra cui spiccava suo nonno Alamanno Morelli, calca le scene sin da piccola, per debutare ufficialmente nel 1924 nello spettacolo Lilium di Ferenc Molen R. Nel 1931 entra nella compagnia di Antonio Gandusio e Luigi Almirante, dove incontra l'attore Gastone Ciappini. I due si sposeranno l'anno dopo. Ma il matrimonio avrà vita breve. Per questo periodo L'Amorelli userà anche il cognome del marito. Nel 1933 il suo debutto nel campo del doppiaggio presso gli studi della Metro Goldwyn Mayer di via Maria Cristina V, a Roma divenendo voce abituale di Catarina Hepburn, Ginger Rogers, Simone Simon, uno dei suoi primi lavori fu il doppiaggio di Jackie Cooper nella pellicola Il campione. Nei decenni successivi lavorerà al doppiaggio in avarie imprese della capitale, tra cui la C. D. C. La sua voce splendidamente duttile ed espressiva impreziosisce le già ottime voci di Nina Focini. Dieci comandamenti, Judy Holliday, di cui sarebbe diventata la doppiatrice ufficiale. Di Carole Lombardin Vogliamo vivere. Di Betty Davis in che fine ha fatto Baby Jane. 1962. Di Jane Etienne in vertigine. 1944. Della fata fauna nella bella addormentata nel bosco. 1959. E di molte altre ancora. Dotata di un fisico minuto ma di una straordinaria forza espressiva. L'attrice si fa un nome da prima come attrice d'Annunziana. Per divenire. Nella stagione 1938-39. Membro della Compagnia del Teatro Eliseo. Insieme a Gino Cervi, Carlo Ninchi, Paolo Stoppa e Andreina Pagnani. Presta la sua sensibilità a personaggi di donne fragili ma al contempo risolute. In spettacoli come Giorni felici di C. A. Pougett, fascino di Kate Winter e le allegre comari di Windsor di William Shakespeare. Nel 1945 comincia una lunga collaborazione con la regista Lucchino Visconti. Che insieme a Paolo Stoppa. Ormai è divenuto anche suo compagno di vita. La dirige in alcune riuscite rappresentazioni di spirito allegro di Noel Coward. Antigone di Jean-Anouille, zio Vania di Anton Chechov. È di opere di Shakespeare e di Goldoni. Nel 1956 e nel 1961 le fu assegnato il premio Sangenesio come migliore attrice teatrale della stagione. Solo Sara Ferrati ha avuto due volte questo prestigioso riconoscimento. Attiva anche al cinema, la Morelli presta la sua sofferta sensibilità drammatica a numerosi film. Soprattutto sotto l'attenta regia di Visconti. Che ne esalta l'intenso temperamento interpretativo nei suoi senso. 1953. Il gatto pardo. 1963. È l'innocente. 1976. Tanto sei.